Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono maullo941 e a volte ritornano signori miei siamo tornati su Fortnite, era un bel po' che non ci giocavamo ma noi siamo tornati con il nostro Mr. Banana signori, con il nostro 007 Banana, con il nostro agente Banana o come lo volete sovrannominare, lo potete sovrannominare io prima di partire col video e di fare questa maga figura, perché io a Fortnite sono sempre stato uno schifo però ogni tanto è bello riprendere i vecchi giochi e ritornare a fare schifo su quello su cui sappiamo fare schifo detto questo, prima di lasciarvi al video vi ringrazio in anticipo per i like, per i commenti e per i suggerimenti e per il non insultarmi, vi ringrazio anche per questo, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941 sia su Instagram che su Facebook, ricordo che stasera alle 9 e mezza saremo in live con Amogus a meno che sperando che la connessione al computer arregga, se no passeremo su scriveri e vediamo e se volete sostendere il canale delle piccole donazioni potete fare con il link che trovate in descrizione al video ho detto questo, segni miei, partiamo ok signorini, siamo qui nella zona pre-inizio di partita dove cazzo le siamo? su una nave, questo che me vuole colpire già subito così non abbiamo iniziato neanche la partita già... oh, siamo sull'autobus allora signori, io non apro Fortnite da non so quanto tempo che sta succedendo? i jet? da quando ci sono i jet su Fortnite, signori? io mi sono perso una botta di aggiornamenti, praticamente in tutto questo dono dovremmo saltare boh, boh, salta, lanciati dai, bella bananità, andiamo... dove ci buttiamo? lì, nella capanna dello zio Tom, signori miei in quella casetta là, voglio, voglio atterrare lì lì, non so cosa sia quella zona di lì, voglio atterrare lì che è quella cosa enorme? no, voglio andare là, è enorme cos'è? un'isola volante, voglio andare sull'isola volante spettacolo, ci stanno... no, è una tigre, cos'è? il segno della jaguar ma mi sa che già c'è un sacco di persone lì, quindi andiamo in questa zona di qua ora, se non ho visto male, ragazzi, dagli ultimi aggiornamenti si dovrebbero poter prendere le macchine cosa è questo? mi sono preso un albero davanti, raga non sono riuscito a prendermi le macchine di sicuro mi sono riuscito a prendere prima apparizione, ok? interessante, allora, vediamo un attimino io non ricordo minimamente niente di Fortnite, signori miei quindi intanto facciamo un po' di cacciara buttiamo a terra un po' di pezzi, ok salve, vorrei comprare qui, 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 scusate, posso aprire questa cosa di cartone? ma che stai lì? cerca, ma da quando? la frutta, che bello, la posso prendere? il gran turco, ma sì, al massimo tiriamo addosso delle patate che servono? la salute al massimo ah, per mangiare, ok ok, pigliamo il fucile, pigliamo le munizioni e forse sarebbe il caso che noi dovessimo no, come si fa? ecco sarebbe il caso che il fucile lo mettiamo davanti il gran turco e questo, sì, lasciale tutte e due perché non penso che il peperoncino faccia bene il peperoncino, signori, è un po' non è la miglior cosa per recuperare salute allora qui ci sta più niente? no noi siamo completamente fuori dalla zona safe se non ricordo male, sì, ok dobbiamo letteralmente spostarci verso il centro questo è lo swap questo non ricordo male se lo rompiamo fa qualcosa se lo rompiamo tutto questo mi sto distruggendo niente, non riusciamo a distruggerlo va, vai a quel paese allora, signori calma e concentrati allora oh, questo è interessante però raccogli fai il pieno tieni premuto chiudi il suggerimento ok, mamma mia, raga ma hai cambiato tantissimo posso prendere il camion? dai, dai, me lo fai prendere il camion, zio? guida ma che spettacolo, signori lì a bella andiamo a comandare, signori miei ma chizzene ma chizzene altamente col camion ma chizzene no, aspetta ci sta pure la musica come si leva la musica, signori come ma io voglio cambiare stazione a radio ma come si leva ah, ci siamo spostati è ripartita la musica ma porca nuovo punto di riferimento ma cosa sto non so cosa sto combinando eeeh vabbè, si distruggiamo tutto andiamo a comandare, signori andiamo a comandare, ma chi se ne frega del punto di riferimento levo quel punto di riferimento sono analizzati i passeggeri no torniamo alla guida grazie ok bello così ma tanta roba aspettate, questo legno però me lo posso prendere perché può servire come si scende? ah, ok mamma mia che cacciare che è fatta per scendere un attimo dal furgone pigliamo questo legno che mi può tornare utile anche se ricordo a tutti che io non so minimamente costruire signori quindi lo stiamo facendo tanto per farlo altra cosa che ho visto una cassa una cassa una cassa una cassa una cassa quantomeno facciamo qualcosa dai così si piglia tutto ciappa tutto signori allora beviamoci lo scudone che non mi ricordo se va bevuto prima lo scudone o poi gli scudini non è la più beviamoci lo scudone è bello così assia ci beviamo pure gli scudini no l'ha fatto al contrario ma parca di una paletta ambriaca questo ce l'ho uguale a questo però c'ho più 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 munizioni quindi quello lì lo buttiamo che non ci serve allora aspetta fatemi prendere il legno fatemi prendere il legno anche se non so costruire però fatemi prendere il legno così chi mi ammazza dico chi mi ammazza potrà rubare tante cose un'olto ho visto un tizio infilarsi qua dentro essere trasportato no questo non serve a trasportarsi questo ci si può trasportare no serve semplicemente a fare i bisogni anche questo va bene continuiamo ad andare signori cambiamo camion cambiamo camion quello è poco sportivo questo mi sembra più sportiveggiante signori bello arancione ci sta il se se a corto il carburante trova io non so come carburante ridotto a posto abbiamo preso l'unico camion no raga no pensavo fosse un salto quello però possiamo lanciarci su questa montagna c'è un tizio là vediamoci lo stiamo a investirlo ci riusciamo a investirlo così pesantemente investo zio lavoro investito secondo voi no mi sta continuando a sparare meglio via via lontano 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 mai fare del campeggio se c'è un tizio col camion vicino a noi la cosa potrebbe diventare più pericolosa riesce ad andare sott'acqua bello così scendi zio scendi scendi fucile in mano fucile in mano il camion continua a camminare da solo quel tizio ancora si sta a muove no non lo vedo va bene ok andiamo qui dallo zio tom in questa casetta bella carina e coccolosa raccogli che cosa che serve cercato oggetto da raccogliere ma cosa raga nei suggerimenti nei commenti dovete darmi tantissimi chiarimenti cioè ho raccolto una cosa che non lo so allora ci dovrebbe essere una cassa qui dove stai cassa fatti vedere cassa ti voglio cassa raccogliamo questo ok abbiamo trovato un fucile la cassa forse è di qua questo muro è abusivo signori questo muro è abusivo lo ho buttato a terra via così bello salve salve no mi sa che è qua sopra la cassa dai 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 rompi 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 non c'ho voglia di salire a primo piano questo è tanta roba allora facciamo così aspettate fermi tutti questo già ce l'ho forse ma chissene lo pigliamo al posto di questo che mi piace di più ok al posto della pannocchia prendiamo il mini kit che mi sembra molto più utile e apriamo questo per le munizioni ok fucile in mano signori lasciamo perdere il camion perché siamo troppo visibili con il camion decisamente troppo visibili con il camion e partiamo nuovamente siamo in 42 signori siamo in 42 e sta andando bene questa partita qui possiamo prendere niente saliamo sopra l'osservatorio questo è un osservatorio penso penso di sì saliamo qua sopra vediamo cosa c'è di carino qua sopra stiamo a fa 70.000 oh del legno ok forse c'è una cassa oh salve ah no c'è proprio una casa spettacolo chi ci abita qua sopra sperduto nell'universo che possiamo prendere le bende questo fucile già ce l'abbiamo no gradirei di tenermi il mio fucile le bende mi possono servire no va bene così pigliamo questo legno ciao il sacchiotto bello il sacchiotto carino che carino questo sacchiotto col cappellino va bene c'è altro da fare no non mi hanno lasciato nemmeno niente per cucinarmi qualcosa cortesemente pigliamo questo legno queste sono tutte cose abusive perfetto ok bene signori allora siamo leggermente nella marmellata signori perché si sta per chiudere la zona di salvataggio la safe e noi siamo decisamente lenti decisamente lenti e decisamente fuori zona salvataggio quindi cortesemente corri no dall'altro lato zio dall'altro lato corri zio corri zio come se non ci fosse un domani devi correre devi correre non possiamo morire dalla safe quando torniamo su su fortnite non lo accetto non lo accetto signori miei corri 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 porca miseria porca dai 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 no siamo fuori siamo fuori dai dai salta giusto non saltare a terra come un pesce morto dai 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 che ci siamo quasi dai che ci siamo quasi dai 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 corri zio corri corri più veloce dal vento intanto siamo rimasti in 30 aia aia video 87 ce la facciamo forse ce la facciamo forse ce la facciamo ok 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 siamo vivi siamo vivi primo giro siamo vivi recuperiamo un altro po' di legno che non so cosa farmene però noi lo recuperiamo lo stesso va bene così raccogli dobbiamo raccogli aspetta e possiamo fare una missione raccogliere degli alberi non ho capito dove se rompo questo mi continuo a dare la missione no quest'albero non gli piaceva vediamo se raccolgo questo se raccolgo questo ti piace? no nemmeno questo non ho letto cosa voleva per la missione vaffan bagno ma ormai questo lo distruggiamo perché mi sta proprio antipatico abbiamo buttato giù una foresta che praticamente abbiamo distrutto la foresta equatoriale perfetto eh ho sentito qualcosa sono degli spari in vicinanza raga si stanno sparando eh c'è qualcuno che si sta sparando male ma non vedo niente vedo un ponte verso l'infinito signori ma non vedo più niente saranno dentro questa casina sicuro sicuro che sono dentro questa casina io non vedo niente faccio finta di niente me ne vado è stato un piacere bravissimi bravissimi siamo rimasti in 24 la partita della vita signori non mi no la qualcuno sta costruendo la qualcuno sta costruendo e si stanno anche sparando allora là c'è uno che corre ok e che saltella male ok vediamo se riusciamo a ciapparlo è troppo lontano secondo me per riuscire a ciappare quello allora stiamo fermi perché qui se non ricordo male eh cos'è questa cosa? c'è qualcuno che sta sparando cos'è questa cosa signori? ma devi come si distrugge questo? che cosa? che cavolo sono queste cose? ma 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 no ma dai ma non è giusto non ci sto a morire per un coso robotico no 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 vattene via vattene via vattene via vattene via qualcuno mi sta anche sparando e questa però è una persona che mi sta a sparare maledetto te e chi non te lo dice pure mettiamoci in mezzo le fresche fraglie fresche fraglie fresche fraglie dove sta lo zio che mi stava sparando? ah ti ho visto fai il saltellino con me ah io ti colpisco da lontano dove stai? no sono morto ma perché? allora queste cose robotiche sono una rottola di grandi di no mi ha ammazzato lui mi ha ammazzato lui mannaggia chi è? tempesta praticamente mi ha ammazzato lui signori io per questo video mi fermo qua perché sinceramente è una partita mi basta e mi avanza dico se volete qualche altro episodio di fortnite che magari cerchiamo di fare qualcosina di meglio però non abbiamo fatto nessuna kill ma siamo arrivati a 21esimo non c'è male detto questo signor mio io vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti mi raccomando datemi delle spiegazioni su tutti questi nuovi aggiornamenti queste cose si devono distruggere ti ho detto questo ragazzone noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao 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 Grazie a tutti.